FESTIVAL SHOW CASTING Ci risiamo qui dal centro commerciale Panorama a Villorba in provincia di Treviso Tutto è pronto per queste nuove audizioni Anche oggi una giuria ad eccezione con i Buster Sons of Dioniso E poi la presidente di giuria sarà Grazia Di Michele In questo nostro appuntamento i Buster Sons of Dioniso, benvenuti ragazzi Con noi con molto piacere l'insegnante di canto di amici, della squadra dei bianchi Cantautrice, signore e signori, Grazia Di Michele Grazie alla Regione del Veneto e grazie naturalmente al centro commerciale che ci ospita Il panorama, nuova location Grazie a tutti 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 Un po' di intraprendenza E ci sono proprio degli ingredienti precisi Per avere successo su un palco? Beh, un buon miscuglio Di capacità tecniche Ma anche di sapersi presentare bene E coinvolgere Bene, queste le parole dei Bastard Sons of Dioniso Grazie ragazzi, alla prossima Con Festival Show Casting Bye bye Grazie di Michele Buongiorno Buongiorno, sono molto felice Perché questa è una zona che è bazzico poco Come si dice a Roma E quindi adesso la conoscerei bene Dal punto di vista canterino anche di tanti giovani Senti Grazie, tu che sei un'esperta di talent show Questo lo sappiamo tutti molto bene Ormai da diversi anni Ma soprattutto anche di musica La forma del talent show Promette bene per i ragazzi? Cioè funziona come format? Diciamo che l'unica possibilità che hanno i ragazzi oggi È di potersi far conoscere Per cui assolutamente funziona Chiaramente c'è qualcuno che rimane indietro C'è chi riesce ad andare avanti Perché oltre alla popolarità Quindi alla possibilità mediatica di passare C'è anche del talento Perché quello che è lo scopo principale È scovare talenti poi, no? E questo faremo festival show casting Grazie naturalmente a questo centro commerciale Che ci ha ospitato per la prima volta Per un saluto anche agli esercenti Che ci hanno ovviamente sopportato Grazie davvero a tutti quanti voi Mi permette di salutare Grazie, far fatto un saluto agli amici Del centro commerciale Alla sicurezza, alla direzione Arrivederci a tutti, grazie Buona lupo ragazzi Ciao, ciao, ciao lo staff Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti